Signori ben ritrovati nel canale di Simodefa. Durante il corso di questo video continuo il corso completo cripto, un corso che ho iniziato all'interno del mio canale youtube per spiegarvi tutti quelli che sono i meccanismi di base del mondo delle criptovalute. Durante il corso di questo video andrò a parlare di wallet, vi spiegherò che cos'è un wallet cripto, vi spiegherò le differenze tra i vari crypto wallet e come poterli andare a proteggere al meglio. In ogni caso all'interno del mio canale youtube ci sono diversi video sui wallet, fondamentalmente ragazzi per andare a conservare criptovalute dobbiamo avere un wallet cripto, questo wallet cripto può essere di diverse tipologie, possiamo avere un wallet all'interno di un exchange che è il metodo tradizionale per conservare criptovalute ma possiamo conservarle anche in DeFi. Abbiamo parlato diverse volte all'interno di questo corso dell'importanza della DeFi del mondo decentralizzato, per collegarci a una piattaforma decentralizzata necessitiamo di un wallet decentralizzato. Quindi ecco durante il corso di questo video affronteremo tutto questo discorso relativo al wallet e spero che alla fine di questo video non avrete più dubbi. Prima di iniziare vi invito a lasciare un like per l'algoritmo di youtube e ad iscrivervi al canale per seguire tutti i miei prossimi contenuti. Quindi che cos'è un crypto wallet? Un crypto wallet è uno strumento fondamentale per chiunque voglia interagire con il mondo delle criptovalute. Infatti si tratta di un portafoglio digitale che permette di gestire criptovalute come bitcoin, ethereum e molte altre. Tuttavia a differenza di un portafoglio fisico che contiene denaro contante, un wallet cripto non memorizza effettivamente la criptovaluta ma conserva le chiave private necessarie per accedere ai fondi sulla blockchain e autorizzare le transazioni. Ragazzi nulla di particolare, semplicemente appunto è un wallet che funziona su internet, non è un wallet privato. Ogni wallet, passaggio fondamentale ragazzi, è dotato di una coppia di chiavi criptografiche. Una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica può essere condivisa con altre persone per ricevere fondi, mentre la chiave privata deve essere custodita con estrema attenzione perché è quella che ti consente di accedere e controllare le tue criptovalute. Questa chiave privata ragazzi viene conservata chiaramente all'interno degli exchange di criptovalute dagli exchange cripto se abbiamo un wallet nostro, per esempio Metamask, da noi stessi. Quindi chiaramente la chiave privata non dobbiamo farla conoscere a nessuno. È la cosiddetta seed phrase nella ledger, il dispositivo più sicuro fondamentalmente e conosciuto al mondo, che ci permette di recuperare le nostre criptovalute e avere accesso al nostro portafoglio. Andiamo ad approfondire, quindi la chiave pubblica è simile ad un numero di conto bancario. Quando qualcuno vuole inviarti delle criptovalute, utilizza la tua chiave pubblica che genera un indirizzo associato alle tue monete. La chiave privata invece è come una password o una firma digitale che consente di inviare criptovalute dal tuo indirizzo. Senza la chiave privata non è possibile accedere ai fondi associati alla chiave pubblica, il che rende la chiave privata l'elemento più critico per la sicurezza. Le criptovalute quindi non vengono effettivamente conservate nel wallet, cosa fondamentale, mentre i fondi esistono come registrazioni sulla blockchain e il wallet fornisce gli strumenti per accedervi e gestirli. Ok, fondamentale. Qua è nato un dibattito sul discorso per esempio della ledger e delle criptovalute conservate nei wallet fisici. Le criptovalute non sono nel wallet fisico, le criptovalute rimangono in blockchain, semplicemente voi le state andando a conservare in un wallet fisico, appunto in un exchange. Le criptovalute rimangono in blockchain. Arriviamo alle tipologie di wallet. Appunto esistono diverse categorie di wallet cripto, ciascuno con vantaggi e svantaggi in termini di sicurezza, convenienza e accessibilità. I wallet possono essere classificati in due macro categorie principali, wallet caldi e wallet freddi. Gli hot wallet sono portafogli connessi a internet, il che li rende molto facili da usare ed accessibili, ma allo stesso tempo più vulnerabili ad attacchi hacker. Questi wallet sono indicati per utenti che necessitano di una soluzione pratica per accedere alle proprie criptovalute e fare transazioni frequenti. All'interno di questi hot wallet ci sono i wallet software, che sono applicazioni che possono essere installate su dispositivi mobili, computer o utilizzate tramite un browser web. Offrono soluzione comoda e user friendly per gestire criptovalute anche se presentano un rischio di sicurezza più elevato rispetto ai wallet offline. All'interno di questa categoria ci sono i desktop wallet come per esempio Exodus ed Electrum. Ci sono i mobile wallet come per esempio Trust Wallet e Coinbase Wallet. E ci sono i web wallet come per esempio Metamask, che viene offerto anche da exchange come per esempio Binance. Ci sono poi i wallet custodial che sono gestiti da terze parti, tipicamente exchange di criptovalute come Binance o Coinbase, Budget, l'exchange cripto che io personalmente utilizzo come riferimento. In questo caso l'utente non ha il piano controllo delle chiavi private poiché queste sono conservate dall'exchange. Appunto, se noi ci registriamo in un exchange abbiamo magari dei vantaggi di accessibilità, ma le chiavi private vengono conservate dall'exchange. Questo tipo di wallet è molto comodo per chi non ha una familiarità con la gestione autonoma delle criptovalute, ma comporta rischi legati alla sicurezza della piattaforma stessa. Un altro rischio è questo, se la piattaforma fallisce chiaramente noi perdiamo le criptovalute. Ci sono poi i cold wallet, ovvero dei wallet che non sono connessi a internet. Questi sono più sicuri rispetto ai wallet caldi. Sono utilizzati prevalentemente per il cold storage di criptovalute, ossia per conservare criptovalute a lungo termine. Però tuttavia l'accessibilità è ridotta rispetto agli hot wallet e quindi non è così facile andare ad effettuare transazioni su questi cold wallet. Chiaramente hanno dei vantaggi legati alla sicurezza. All'interno di questa categoria ci sono gli hardware wallet, sono dispositivi fisici simili a chiavette USB che conservano le chiavi private offline. Questo li rende estremamente sicuri contro attacchi hacker e virus. Le transazioni devono essere firmate fisicamente sul dispositivo prima di essere inviate alla blockchain, aggiungendo un altro livello di sicurezza. Ovvero senza avere accesso fisicamente a questo dispositivo non si possono inviare criptovalute. Tra i principali outdoor worry ci sono Ledger e Trezor. Quindi i vantaggi sono sicuramente un'estrema sicurezza, ideale per conservare grandi quantità di criptovalute, e svantaggi che non sono comodi per frequenti transazioni e richiedono un investimento iniziale nel comprare il determinato wallet. Ad oggi per quanto riguarda i Ledger e i Trezor li potete acquistare sui 70-100€ su Amazon o sul loro sito ufficiale di riferimento. La differenza rispetto ad avere dei wallet su internet è che in questo caso la chiave privata è conservata privatamente da noi stessi e per inviare transazioni dobbiamo avere l'hardware wallet con noi. Senza un'approvazione fisica le nostre criptovalute non partono dal nostro wallet. Per questo motivo sono definiti i wallet più sicuri e se posso dare la mia opinione è effettivamente così perché mi è successo in passato di utilizzare dei hot wallet, quindi per esempio dei wallet come Metamask e di subire degli attacchi hacker e a molte persone è successo ciò. Quindi se il vostro scopo è quello di conservare criptovalute in sicurezza sicuramente i wallet fisici sono la soluzione migliore. Ci sono altre due tipologie di wallet ovvero i paper wallet e i wallet multisig che però non vorrei andare ad approfondire all'interno di questo video. Andiamo ad un argomento critico ovvero come gestire la sicurezza del proprio wallet. Quindi la sicurezza del wallet è una questione di fondamentale importanza poiché la gestione autonoma delle chiavi private è essenziale per proteggere i propri fondi. A differenza del sistema bancario tradizionale se un wallet viene compromesso non ci sono misure di recupero centralizzate. La perdita della chiave privata comporta la perdita permanente delle criptovalute associate. Arriviamo alla sicurezza quindi il principio base per garantire la sicurezza di un wallet è proteggere le chiavi private ovvero se le persone non hanno accesso alle chiavi private non hanno accesso al nostro wallet. Quindi non condividere mai quelle che sono le chiavi private. Appunto le chiavi private devono essere conservate in modo sicuro e mai condivise con nessuno. Se qualcuno ottiene l'accesso alle chiavi private può trasferire i suoi fondi. Semplicemente questo è il motivo per cui voi dovete conservarla al sicuro. 2. Utilizzare l'hardware wallet per grandi quantità di fondi. Infatti gli hardware wallet offrono il massimo livello di sicurezza e sono la scelta ideale per conservare grosse quantità di criptovalute. Abbiamo visto degli esempi come per esempio il Ledger o il Trezor. E effettuare dei backup sicuri. Ovvero effettuare dei backup della chiave privata e conservarli in un luogo sicuro come una cassaforte. Ci sono per esempio le banche che offrono il servizio di custodia dei nostri beni e possiamo andare in banca e mettere là il nostro dispositivo hardware. Inviare criptovalute a questo dispositivo e sappiamo che nessuno potrà andarle a toccare perché appunto senza l'accesso al dispositivo fisico nessuno può inviare criptovalute. Un'altra cosa fondamentale che si può andare ad inserire è l'autentificazione a due fattori. L'autentificazione a due fattori è un livello di sicurezza aggiuntivo che richiede l'accesso a un secondo dispositivo o un'applicazione come Google Authenticator per confermare una transazione. Questo è particolarmente utile per wallet software o custodial poiché rende più difficile l'accesso non autorizzato anche se la password viene compromessa. L'autentificazione a due fattori viene utilizzata principalmente negli exchange cripto per appunto mettere più al sicuro il nostro account. Se una persona per qualche strano motivo ha accesso al nostro conto Binance o Bidget per entrare dovrà avere un codice Google che solo noi che abbiamo il dispositivo quindi nel nostro telefono abbiamo. Quindi dovrebbe rubarci il dispositivo per accedere alla chiave privata. Un'altra cosa importante è stare attenti a quelli che sono gli attacchi phishing quindi molte volte riceviamo delle email o siti web falsi che imitano piattaforme legittime e inducono l'utente a inserire le proprie credenziali o chiave private. Ragazzi è fondamentale che voi vi memorizzate i siti di riferimento dei principali exchange cripto e non finite in queste pagine phishing perché chiaramente se vi rubano la password possono accedere al vostro conto. Chiaramente voi potrete metterlo in sicurezza con l'autentificazione a due fattori ma è sempre meglio stare molto attenti. Signori per quanto riguarda questo video dedicato ai wallet cripto io spero di essere stato chiaro appunto i wallet è il luogo nella quale noi conserviamo criptovalute ed è diverso in base allo strumento che scegliamo. Se abbiamo le criptovalute in un exchange la nostra chiave privata viene conservata da un exchange se abbiamo un wallet all'interno di internet per esempio la chiave privata la conserviamo noi ma è comunque all'interno di internet quindi non è sicuro al 100% se vogliamo avere la sicurezza totale sulla nostra chiave privata dobbiamo utilizzare un wallet fisico. Di base questo è il principio per gestire un wallet cripto durante il corso dei prossimi video andremo dentro un wallet e vi farò vedere come funzionano le tipiche transazioni di invio e scambio di criptovalute. Signori per quanto riguarda il video di oggi è tutto e sono arrivato alla fine quindi vi invito a lasciare un like per l'algoritmo di youtube e vi invito ad iscrivervi al canale per seguire tutti i miei prossimi contenuti. Da SimoDev è tutto noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video.